Siamo qui con Antonello Omari al Meeting Point, noto giocatore di Calcio Balilla. Che cosa ci vuole dire Antonello del Calcio Balilla, di qualche personaggio? Beh, bene o male, stasera sono venuto al torneo e faccio anche con te che anche tu sei un grande campione. Però io gli ultimi tornelli l'ho fatto con Andarossi, però io questo Andarossi lo vorrei sfidare qui per confrontare la tecnica. Sendo che dice che è forte, deve venire qua a Peveraglio a dimostrare che è forte, giusto? No che vinca il torneo per far sempre accoppio a lui, stavolta voglio cercare anche di sfidare a lui, che dice? È giusto, è giusto, è giusto mostrare il proprio valore con queste sfide. Intanto mostriamo il torneo di Calcio Balilla che si sta svolgendo qui via Peveraglio. Sono molte coppie forti questa sera. Pronostici, pronostici per la vittoria di questo torneo? Molti pronostici. Secondo te il tuo torneo è un buon possibile di vincere, io sto iniziando bene. Il mondo è un 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 mondo. Calomari, grande giocatore. Viva D'Arteruca e Bigliardino. Viva D'Arteruca e Bigliardino.